Giocattoli non sicuri e quindi potenzialmente pericolosi che rischiavano di finire sotto gli alberi di Natale sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza, proseguono infatti i controlli delle fiamme gialle in vista del periodo natalizio. In Casentino sono stati così sequestrati circa 700 prodotti, per lo più giocattoli e materiale elettronico. Nei guai sono finiti i titolari di tre attività commerciali che adesso dovranno pagare pesanti sanzioni che possono arrivare sino ad oltre 25.000 euro in relazione al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero complessivo degli articoli messi in vendita. L'azione delle fiamme gialle non si è però limitata solamente al contrasto della contraffazione e alla tutela dei consumatori. Sono stati infatti effettuati anche controlli in tema di mano d'opera irregolare. Due, i lavoratori nero individuati assieme all'ispettorato del lavoro. Per questo è stato chiuso un esercizio commerciale che aveva superato la soia del 20% di lavoratori abusivi. Il titolare è stato anche multato. Infine, la Guardia di Finanza nei giorni scorsi ha notificato un provvedimento di chiusura obbligatoria per la durata di tre giorni nei confronti del titolare di un esercizio commerciale casentinese a seguito di plurime mancate emissioni dello scontrino fiscale.